Musica Amiche vi faccio conoscere un altro aspirante mister un aspirante mister che ha dei dettagli che andremo a scoprire e l'aspirante numero? 37 37 il nome? Raffaele Raffaele, ragazzo molto giovane, quanti ne hai? 16 16 anni, allora Raffaele mi ha veramente molto colpito perché insomma c'ha un 4 carati di diamante alle orecchie come mai questo look così elegante, prezioso? Mi piace così Quanti euro hai speso per questi diamanti? Tanti, tanti Tanti, non possiamo dirlo No, non si può dire Bravo, bravo Senti, però la telecamera poi magari vengono atti e li strappano Senti, 16 anni, no? Quindi sei giovane, mi piace sapere, voglio conoscere cosa fai Studio Studio meccanica e basta Basta Con entusiasmo, ti piace la meccanica? Sì, mi piace Motorini, queste cose qua Tu hai 16 anni, la macchina non ce l'hai ancora Però immagino avendo a scooter Sì, sì Tutto taroccato ovviamente Sì Un 50 potenziato a 250 No, ancora no Ancora no, però ci sta lavorando su Alla faccia di uno che ci sta lavorando Va bene Senti, come mai ti sei scritto a mister topolini? Ci conoscevi? No, è tramite un ragazzo Quello che era venuto prima qua E basta Ho capito, vabbè Mi ha convinto Ho capito Vedo che sei un po' emozionato La telecamera ti Eh vabbè, non è facile Sei timido Vabbè, allora dai Piano piano ti scioglierai Non voglio, insomma, torturarti più del dovuto Ti chiedo solamente di guardare la telecamera Quelle 3-4 mila persone che ti staranno guardando anche di più E di salutare e dire tutto quello che ti passa per la testa Ciao, saluto a tutti Ehm, non so Basta dai Basta In bocca al lupo In bocca al lupo Crepi In bocca al lupo